continuiamo su butterfield 4 ieri eravamo arrivati a qua che ci devono dare il punto di estrazione però cavoli e non mi aiutano non mi aiutano non capisco il perché questo è tosto da fare non riesco a farlo non mi aiutano via 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 siamo scoperti via 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 muori stronzo devo prendere munizioni ragazzi munizioni munizioni cambiamo arma mi piace questo e adesso ci divertiamo qua pronto per i versati andiamo giù con questa mamma mia è morto andiamo Ok, in attesa di best-back. Come si scende da sta cazzo di jet? Porca puttana. Niente, bisogna andare... Oh, signore, Dio, Dio, fa... Qua c'è da bestemmiare, c'è qua. Ma non ti aiutano, non sparano, sono solo io che... No, ma di no, da qua, amica... Ma andiamo tutto avanti, vaffanculo. E via, la mitraglia l'abbiamo tolta. Orco Dio! Pronto all'ingagio, mi sembra evitato. Ce n'è qua dietro, eh. Pronto all'ingagio, mi sembra un bersaglio. Prendere le armi. Ok, quali sono i bersagli? Attenzione, granata! Sparo, attenzione! Pronto per i bersagli. Oltre il cortile attraverso quel prodotto di scuola. Recupero, arriviamo. Ok, in attesa dei bersagli. Pronto per i bersagli. Ok, ecco. Ok, ecco. Ok, ecco. Ok, quali sono i passaggi? Ok, quali sono i passaggi? Ok, quali sono i passaggi? Ok, in attesa dei bersagli. Ah, cazzo! Ok. 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 Ok, in attesa dei bersagli. Pronto all'idea. E' non ancora uno. Wattu. non so come ingaggiarteli non c'è tempo di guardare non rompere ci gestiamo da soli sei sopra l'elicottero devo farti vedere io i bersagli eh questo è un casino questi qui sono sopra qui è un gran casino ucciderli andiamo va ok 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 stranzo e vaffanculo l'ho presa stavolta niente ce n'è sempre un casino non mi aiutano un cazzo pronto all'ingaggio vi serve un bersaglio è qua dietro sto palo eh preso un altro lì preso un altro lì o la finalmente ragazzi è tosta wow butta giù tutto cazzo butterà ora eh era ora via via avanti come gli ultras avanti senza paura dai 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 che li sbuttiamo nel fiume li buttiamo sti stronzi arrivano altri ok porca madonna quante armi ho già sbloccato no 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 mamma mia ragazzi è tosta meno male che si ricarica l'energia almeno nella campagna se no sarebbe morto 50.000 volte oh cristo allora fai il furbo e adesso ti sistemo io da dietro no 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 niente si sparano i miei non coprono stanno lì non so cosa cosa cazzo fanno dai dai andiamo 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 che le buttiamo indietro occhio questo trofeo guadagnato ma dove cazzo mi spara ma cosa serve la squadra che c'ho io imbecilli stronzi non scanno un cazzo muoversi guarda quest'altro spara da mezz'ora qua dietro grazie a cazzo squadra di merda dio cane carichiamo le armi andiamo 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 adesso non arrivano anche qua sicuro andiamo 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 bella è però campagna è fatta bene meglio del 3 non c'è un altro modo per salire non così veloce non abbiamo tempo da perdere vedrete il capista dalla terrazza ora mi aspetto qualcosa di esclusivo silenzio eh 28 proietti su 120 non c'è un altro modo per salire nooo non c'è un altro modo per salire porca puttana è uno di catrapasci che ci spara stardo butto giù con M320 nio a ma e poi ci salutiamo ragazzi dai 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 nooo non ho ciao l'ha buttato su puttana merda e mo ciao ciao guarda che roba si ma mandano un elicotterino della disney contro una pace ma va affanto il culo va eh certo mamma mia ma come no 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 mamma mia guarda che cazzo devo fare ma sto elicottero si può buttare giù o cosa dobbiamo fare non c'è un caro armato porca troia lo tiriamo giù Cristo Azerbaijan va bene ragazzi ci salutiamo qua vedete che fai al punto di recupero secondario ci vediamo alla prossima ciao ciao